bimbolandia bimbolandia il canale preferito dai bambini clicca sulla campanella per ricevere le notifiche del nostro canale ciao e benvenuto in questo nuovo video la filastrocca è con l'occhio bello con questa filastrocca imparerai l'anatomia del tuo viso ecco l'occhio bello tocca l'occhietto questo è l'occhio bello questo è suo fratello tocca l'altro occhietto questa è la chiesetta tocca la boccuccia questo è il suo campanello tocca il tuo nasino il nasino è il tuo campanello dim don dan dim don dan questo è il tuo nasino il campanello testina bionda tocchiamo insieme la testolina testina bionda guancia rubiconda tocchiamo la guancia fronte innocente tocchiamo la fronte dim don dan dim don dan ripeti il movimento del nasino a destra e a sinistra ed ora ripetiamo insieme tutto ciò che abbiamo visto occhi prova a scoprire da solo dove sono gli occhietti labbra ricordi dov'era la boccuccia prova a scoprire insieme naso ti ricordi dov'era il naso prova a scoprirlo insieme la testa ti ricordi dov'era prova a scoprirlo insieme guancia dove si trovano le guance proviamo a scoprirlo insieme e la fronte ti ricordi dov'era la fronte bravissimo se il video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici e clicca su mi piace iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti